Nel precedente video abbiamo visto come creare un modulo di prova, questo modulo di prova che noi abbiamo creato, però attualmente non è utilizzabile da nessuno perché non è stato ancora pubblicato, cliccando su di esso vediamo il foglio dove poter raccogliere le informazioni, dove le informazioni saranno raccolte automaticamente, in questo foglio di calcolo i dati non ci dovremo inserire noi, ma ce li inserirà automaticamente il sistema man mano che gli studenti risponderanno alle domande. Se andiamo su un modulo possiamo recuperare il modulo per vederlo e eventualmente fare ulteriori modifiche anche alle impostazioni. Per poter inserire questo modulo in una pagina di internet che sia accessibile ai ragazzi in modo che essi possano rispondere alle domande, dobbiamo selezionare accuratamente l'indirizzo, la URL partendo da HTTP fino ad arrivare all'ultima lettera della parte blu e selezionare tutta questa, copiarla facendo tasto destro copia oppure CTRL C da tastiera, quindi abbiamo fatto con il tasto destro e ora clicco su copia. Ora ho copiato l'indirizzo di questo modulo, posso anche fare qualche altra modifica, per esempio modificare lo sfondo e renderlo più gradevole, per esempio possiamo mettere un qualcosa che dia l'idea della semplicità di questo modulo, per esempio questo formato, una volta che l'abbiamo salvato con questo nuovo formato lo applichiamo, l'indirizzo è rimasto lo stesso di prima, quindi possiamo chiudere questa pagina, chiudiamo la pagina, chiudiamo anche la pagina di raccolta dei dati e andiamo adesso sempre dalla nostra sezione documenti, dove ci troviamo, documenti e andiamo ai siti, cambiamo sezione, ci spostiamo alla sezione siti, dove andiamo a modificare la pagina nostra, dove i ragazzi sanno che devono andare a cercare le attività da svolgere, quindi andiamo nel sito per esempio del bienio, dove abbiamo la prima E e supponiamo che io sono il professor Scarponi, vado a modificare la mia pagina inglese, come? Semplicemente andando in alto su modifica pagina, troverò questo modifica pagina, chiaramente soltanto se ho effettuato il login e quindi me ne accorgerò perché troverò qua sopra in alto scritto il mio nome, il nome del mio account, quindi faccio modifica pagina, vado dove c'è l'ultima cosa scritta oppure sotto al nome e crea un altro spazio, in modo che metto le informazioni più recenti più in alto e quindi io questo modulo lo voglio chiamare Roman Kings, Re di Roma, una volta che ho scritto il titolo che i ragazzi dovranno cliccare, che può anche non coincidere con il titolo del modulo come in questo caso, seleziono tutta la scritta, poi vado al comando link, lo clicco, poi tra le tre opzioni importanti devo scegliere non una pagina esistente, ma un indirizzo web e voglio creare un link e un collegamento a un indirizzo web che è quello che ho appena copiato, anche in questo caso posso fare da tastiera CTRL V oppure con il mouse tasto destro all'interno del campo e incolla, quindi il mio link che iniziava con HTTP e finiva con la Q è stato copiato qua, adesso prima di inserirlo definitivamente questo link dico di far sì che si apra la finestra in una nuova, il collegamento si apre in una nuova finestra e poi scelgo ok, questa nuova finestra per far sì che il ragazzo rimanga connesso alla finestra originaria e in più abbia la finestra del collegamento, ora questa pagina l'ho modificata, la pagina di inglese del professor Scarponi, ma non è stata ancora salvata, perché al contrario ai documenti non si salva automaticamente, quindi devo cliccare su salva e una volta che l'ho fatto posso anche uscire dal mio account e andare a vedere che cosa troveranno i ragazzi da fare. Una volta usciti dal sito, mettiamoci nella situazione dello studente, lo studente accederà al sito, potrà farlo per esempio digitando in una finestra di Internet qualsiasi digitando l'indirizzo che è http.sites.google.com.a.divini.org.bienio. quindi lo studente apre la sua pagina, la pagina del sito della sua classe e sa che deve fare un modulo di inglese, va a vedere su inglese e trova Roman Kings, si forma l'icona la manina, clicca e l'accesso non è immediato perché gli viene richiesta l'autenticazione, quindi supponiamo che lo studente si chiami Alfredo Tifi, lui scrive nome.cognome, mette la sua password e accede, si apre il modulo di prova che abbiamo precedentemente creato, viene avvisato che il suo nome e il suo account sarà registrato e se lui non è la persona in questione dovrà uscire, quindi se lavora in gruppo qui inserirà il nome degli studenti che lavorano con lui e il proprio nome, poi risponderà alle domande, fornirà una giustificazione di qualunque tipo e poi parlerà dell'impero di Augusto e inserirà tutte le informazioni che conosce. Può ricevere lo studente nella sua casella di posta, perché come gli insegnanti hanno una casella di posta, così anche gli studenti hanno una simile casella di posta, potrà inviare a lui stesso le risposte che ha fornito per potersi rivedere tranquillamente anche da casa. Quando lui ha finito, clicca su Submit e i dati delle sue risposte andranno a finire all'interno del foglio di raccolta che prima abbiamo visto, però prima di andarsene lui potrà anche ripensarci e modificare le sue risposte che noi abbiamo previsto che l'utente potesse farlo, quindi cliccando lì rientra, ritrova le risposte che ha già dato, compreso il nome, compresa la scelta multipla che può modificare e poi può anche, dopo aver modificato, può uscire e quindi lui riceverà un'altra copia delle risposte che ha fornito. Bene, adesso dobbiamo andare a vedere che cosa è successo nel foglio di raccolta. Tutti gli studenti compileranno individualmente da scuola o da casa questo modulo e tutti i dati saranno raccolti nel modulo di prova, quindi noi dobbiamo rieffettuare l'accesso, quindi rieffettuiamo l'accesso, andiamo ad aprire il nostro modulo di prova, si aprirà il foglio di raccolta delle risposte e come vedete è stata registrata l'informazione sul giorno e l'ora a cui è stato inviato l'ultima volta il modulo, dopo che la modifica è stata definitiva, infatti abbiamo otto re di Roma e tutte le risposte, la stessa cosa saranno elencati in ordine cronologico tutti gli altri che hanno risposto. Questo foglio potrà essere ridimensionato per dare la possibilità di vedere meglio, per esempio allargare le colonne, restringere o togliere le colonne che non ci interessano, per esempio se abbiamo il nome possiamo anche non usare questa e vedere le altre, quindi a questo punto possiamo anche fare un'altra operazione, possiamo scaricare questo foglio di calcolo, andando su scarica file, scarica come e scaricarcelo come file Excel che è modificabile in maniera più comoda, anche senza essere collegati in rete, scegliamo una cartella dove salvarlo, eccolo, questo è stato scaricato, lo riapro e così mi si riapre come Excel e ho tutti gli stessi dati.